Dopo l'ordinanza emessa dal comune di Pesaro per rafforzare i controlli nei parchi della città anche i volontari di quartiere hanno potuto svolgere il loro ruolo ricordando ai cittadini cosa è consentito fare all'interno del parco. Hanno girato per i parchi della città muniti di pettorina per ricordare ai cittadini cosa è consentito fare all'interno delle aree verdi stesse. Sono i volontari dei quartieri di Pesaro che sposando l'ordinanza emessa dall'amministrazione comunale in accordo con la prefettura per rafforzare i controlli nei parchi cittadini si sono messi subito a disposizione della comunità così lo scorso weekend il primo in zona rossa sono partiti per portare il loro contributo nei principali parchi cittadini volontari che non si sostituiranno alle forze dell'ordine ma che offrono un servizio ulteriore per fornire ai cittadini indicazioni sui comportamenti da seguire all'interno dei parchi. L'obiettivo si legge nell'ordinanza è verificare la riduzione degli spostamenti ed evitare situazioni di assembramento. Nel quartiere 4 non ci sono stati problemi di nessun tipo c'è stato un uso responsabile dei parchi da parte dei cittadini per cui come volontari ci siamo ritenuti ampiamente soddisfatti e speriamo si possa rifare questa esperienza in futuro. Qual è il vostro ruolo di fatto quando incontrate i cittadini che cosa dovete fare? Dobbiamo semplicemente porre l'attenzione sulla sicurezza, sul distanziamento, sull'utilizzo corretto delle mascherine e fare un po' quello che ogni buon cittadino dovrebbe fare quando va a fare una passeggiata in giro per il quartiere. È stato un ruolo chiaramente non di sorveglianza, non siamo poliziotti, è stato un ruolo di cittadinanza attiva. Invece è stato un ruolo molto importante sia per mantenere la sicurezza nei parchi sia per dare una mano anche ai cittadini a rinfrescare un po' quali sono le normative e soprattutto tenere aperti i parchi perché sono una risorsa fondamentale. Il primo weekend è andato benissimo, primo perché l'entusiasmo dei volontari, quindi questa cosa già si parte con una voglia diversa, con una voglia di essere partecipi per il quartiere. In più essere sicuri perché noi eravamo coperti da che ci copre in tutto quello che è la sicurezza, quello che è l'abbigliamento e ci dà la forza di poter dire le cose in modo regolare e reale, quindi massima concretezza. I cittadini hanno partecipato, sono stati entusiasti perché si sono resi conto di essere supportati da un comune vicino perché possiamo essere vicini di casa e quindi felici e poi è stato tutto perfetto. I parchi interessati dall'ordinanza sono quelli di grande e media dimensione, Miralfiore, Scarpellini, Trulla, Villa Molaroni, Viale Trieste, Zara, Piazzale della Libertà, Maestri del Lavoro, poi ancora quelli di quartiere, Villa Fastigi, Villa San Martino, Vismara, Baden Powell in zona Pentagono e Celletta.